Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Come tutti sappiamo l'Argentina è diventata campione del mondo. In tantissimi mi avete mandato la foto di un tatuaggio, ovvero Messi che bacia la coppa. Ovviamente c'era da aspettarselo, l'Argentina è campione del mondo, la gente è impazzita e si è iniziata a far tatuare Messi, 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 come se non ci fosse un domani. Ma quello che vi stavo dicendo è che girava questa foto qua. Ed è una foto molto particolare perché il tatuaggio non è bruttissimo tecnicamente, non è fatto proprio male, 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 male. Però il tatuatore che l'ha fatto penso che sia diventato virale in una maniera mostrata. Sapete perché? Guardiamolo insieme. Messi sta baciando la coppa del mondo e la coppa del mondo sembra un gigantesco c***o. E quindi fa morire da ridere, me l'avete mandata tipo in 800 persone. Perché non fare top 10 Lionel Messi fatti di m***a Argentina Collection? Ovviamente i tatuaggi sono solo e esclusivamente riguardanti la coppa del mondo. Non mi interessa avere un tatuaggio di Messi fatto di m***a di due anni fa. Quindi ora godiamoci lo spettacolo. In decima posizione noi troviamo questo Lionel Messi. Se andiamo a guardarlo un attimino tecnicamente, a parte la foto fatta male perché c'è questo riflesso, Messi non è neanche fatto malissimissimissimo. È fatto male, non è bruttissimo. La foto è abbastanza modificata, ma quello che vedo è questo ciuffone enorme che non ha realmente un senso. Ok? Che può avere questo ciuffo enorme anche lui nella realtà, ma sicuramente non è così. Anche in questo caso Messi ha fatto male e fa veramente ridere. Quello che mi fa ridere è Messi con lo spazio fra i denti, io non l'avevo ancora visto. E poi c'ha questa barba, ok, ma quando si tatua, se la barba è nera e poi tu hai l'ombra del collo nera, non è che per farmi vedere la barba mi devi fare una striscia bianca. Invece il tatuatore in questione ha fatto una striscia bianca e io non mi capacito realmente del perché. Questo Messi è su un polpaccio ed è veramente, ma veramente allucinante. E non è come i prossimi che andremo a vedere. Io capisco tutto, ma secondo me il culmine, cioè veramente l'apice di quello che si può trovare, è quando il tatuatore di *** che fa il tatuaggio di *** si mischia con l'idea geniale. E qua noi troviamo Messi, che ha appena vinto i mondiali, che sotto il braccio c'ha un altro premio e al posto di baciare la coppa del mondo, cos'è che bacia l'uomo talpa dei Sims? Cioè, ha realmente vinto tutto questo tatuatore. In settima posizione troviamo appunto il tatuaggio con il quale abbiamo aperto il video, ovvero Messi che sta baciando un enorme *** gigante, al posto che è una coppa. Cioè, guardiamolo un attimino. La cosa brutta per il tatuatore che l'ha eseguito è che ovviamente non voleva sembrare un pisello gigante, ma la coppa del mondo solo che sembra un pisello, non ci puoi fare niente. Ovvio, portata in bianco e nero, magari la coppa del mondo poteva essere così, però dai, cioè, hai fatto veramente una figuraccia plateale, anche perché questo tatuaggio sta girando veramente tutto il web. Un altro Messi, ovviamente, che si sta baciando la coppa del mondo. Quello che mi fa morire da ridere in questo tatuaggio è l'espressione di Messi. E quindi qua dice tutto. Ma poi andiamo ad analizzare un attimo la prima mano, ok? E' un ***. Andiamo ad analizzare la seconda, si vedono tre dita spuntare e realmente ci poteva essere lo spazio per mettere la quarta. Ma guardiamo che braccino monco gli ha tatuato. Un errore enorme nell'esecuzione di questo tatuaggio. In quinta posizione, questo tatuaggio qua. Me l'avete mandato in tantissimi, mi avete mandato lo screen e quello che comunque mi fa dire, cavolo, è il tatuatore in questione che subito dopo aver tatuato questo Lionel Messi ha iniziato a sponsorizzare la foto. Quando una persona sponsorizza un lavoro del genere, pensa di aver fatto un bel lavoro. E noi ora, se lo zoomiamo un attimo, se lo andiamo un attimino a vedere, cioè, ma guardiamo la faccia. Come fai a sponsorizzare un lavoro del genere? Cioè, la faccia non è messa, ma poi quei due cornini dietro che dovrebbero essere un qualcosa dello stadio? Ma che senso ha? Ma soprattutto, sopra la coppa del mondo, c'è questa sfumatura nera, che si poteva evitare perché è un pugno in un occhio, la sfumatura nera sulla mano, poi si interrompe e poi riparte. Cioè, ti sei dimenticato proprio un pezzo di sfumatura? Perché non l'hai fatto tutto? Cioè, il senso di una cosa del genere? E poi, amici, io ribadisco il concetto. Fare un Messi grosso così già è difficile, ma se non siete in grado, non lo fate, che è la cosa migliore. In quarta posizione, un Messi che non è un Messi, perché se noi andiamo a vedere la faccia, realmente non è Lionel Messi. Cioè, io conosco Lionel Messi, so come è fatto. Non è assolutamente questa la sua faccia. Un'altra cosa che comunque fa molto ridere sono queste dita che ha, tutte dritte e perfette, tirate tipo col righello. Se vi devo dire la verità, ma la verità, 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 forse al numero 3, quindi sul gradino più basso del podio, è quello fatto peggio. È veramente il più brutto esteticamente parlando. Andiamo un attimo ad analizzare. Non ha la definizione della mano sinistra. La mano destra è monca, con queste nocche giganti. La faccia è veramente imbarazzante. Lo sfondo fa veramente schifo. E la coppa del mondo, cioè, gli manca tipo una linea dietro per finire il tatuaggio. Quindi è un agglomerato di colori veramente buttati a caso. Quindi questo, al numero 3, c'è il tatuaggio più brutto esteticamente di tutta questa classifica. Al numero 2, invece, c'è il tatuaggio più bello e che fa più ridere di tutta questa classifica. Vi faccio vedere prima la coppa del mondo. E voi dite, cavolo, non sembra fatta malissimo. Lionel Messi, che pesa 180 kg, che si è mangiato tutta l'Argentina. Cioè, si è mangiato tutti i suoi compagni, perché comunque non può essere così grasso. Cioè, ma guardate qua, sto tatuatore, io non so come sia possibile da una foto di uno magro farlo grasso. È proprio difficile. Cioè, se io mi metto lì e mi sforzo di fare un Lionel Messi grasso, è difficile, perché comunque i zigomi, il collo, le guance, il naso, cioè, tutto. Sto tatuatore qua è fortissimo. L'ha realmente fatto grasso in una maniera mostruosa. Ha veramente, ma veramente spaziato. In prima posizione, invece, c'è il tatuaggio che mi ha fatto più sorridere. Quello che mi ha fatto veramente morire da ridere più di tutti. Perché è veramente il più brutto, il più senza senso e via dicendo. Ovvero, questo. Può essere tipo una caricatura, può essere, non so neanche cosa può essere. Però, guardiamo il naso gigante di Lionel Messi, gli guardiamo le mani, non ha l'altro braccio, quindi tiene la coppa con una mano sola, gli spuntano però in fondo tre dita veramente fatte come viene, viene. C'ha una spalla appunta, quindi una spalla appuntita e basta. Devo dire che questo tatuaggio ha dell'incredibile e si merita di vincere il primo posto in questa mia classifica. Che dire, amici? Vi avevo chiesto semplicemente di mandarmi delle foto di Messi fatti veramente male e mi avete intasato la chat. Questo video mi è piaciuto un sacco realizzarlo e sono sicuro di avervi strappato una risata. Spero che comunque questi video qua servono a ridere, a farvi sorridere, servono comunque a passare quei dieci minuti insieme la domenica alle 18.45 e oltre a questo spero che vi servano anche per capire come sono le cose fatte bene ma soprattutto come sono le cose fatte male. Quindi, aprite gli occhi amici perché i tatuatori di sono ovunque. Chi sta tatuando si impegni sempre al massimo e prenda spunto per non fare dei tatuaggi del genere. Iscriviti al mio canale se non sei ancora iscritto seguimi su Instagram perché se mi vuoi mandare qualcosa me lo dovrai mandare su Instagram. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!